Siamo qui con Paolo degli Ultras Milano, cosa vuol dire tifare pallavolo a Milano? Vuol dire avere una passione per una città, soprattutto per questo. Il nostro gruppo è un gruppo nato nel 1983 e passato di generazione in generazione siamo arrivati fino a questo punto, anche tra alti e bassi del pallavolo purtroppo milanese, dai tempi dell'Assistel fino alla Mediolanum passando per Sparkling e Dora Revivro. Quindi per noi è più che altro un onore di portare in giro i colori della nostra città. Ogni volta cambia squadra, cambia società, i tifosi restano? Sì, diciamo che lo zoccolo duro dei tifosi è restato, purtroppo come ripetevo prima nel corso degli anni, purtroppo, ahimè, alcune volte è andata bene, alcune volte è andata male, però le squadre sono cambiate, ma noi ci siamo sempre rimasti a tifare la pallavolo milanese, nel bene o nel male. Ecco, abbiamo visto in curva tante ragazze, tanti ragazzi, tanti giovani, quindi una maniera per divertirsi? Sì, sicuramente sì, il nostro tifo non è un tifo violente, è un tifo che serve per divertirsi soprattutto, il nostro primo principio è il divertirsi, poi i risultati se vengono, vengono, noi ormai veniamo da due anni un po' così e niente, però noi siamo qua per divertirci, il nostro principale motivo è il divertirsi, poi quello che viene, viene. Confermi quello che dice Paolo? Assolutamente sì, confermo tutto. Anche in giornate come questa dove magari la squadra non vince? Vabbè, dettagli, sono dettagli, però sì dai, va bene così per il momento, speriamo si riprendano. Ma quindi partite in casa qui e anche in trasferta? Ogni tanto se si riesce a fare andiamo anche in trasferta, sì, esatto. Noi domenica scorsa eravamo solo in tre ma eravamo a Ravenna, quindi ci siamo sparati 300 km per andare a Ravenna. Quest'anno siamo già riusciti a fare Piacenza l'andata, Modena, Verona, siamo andati, siamo andati a Ravenna. E allora se uno si vuole avvicinare alla pallavolo, al tifo della pallavolo e a Milano, come fa a trovarvi, dove vi trova? Allora noi abbiamo una nostra pagina Facebook che è chiamata proprio Ultras Volley Milano, dove per qualsiasi informazione rispondiamo e qualsiasi contatto se vuole raggiungerci. Noi siamo sempre qua e aspettiamo sempre gente nuova per tifare insieme a noi, ecco.